Buongiorno a tutti, lasciamo subito la parola a Angelo Mangiante che è qui presente, gli altri giornalisti hanno inviato invece le domande e i due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno poi a porgerle all'allenatore. Iniziamo Angelo. Mister, se ci consente, oggi è una giornata triste, c'è un velo di tristezza per i funerali di Paolo Rossi, qual è il suo personale ricordo di questo campione? Prima devo dire che mi dispiace tanto la morte di Paolo Rossi, un giocatore che io ho admirato tanto quando era ragazzino, mi ricorda per esempio del mondiale in Spagna che ha segnato tanto, mi piaceva molto vedere Paolo, mi dispiace tanto, è un momento triste per il calcio, principalmente per il calcio italiano e una parola di conforto per la famiglia in questo momento. Venendo ai temi che riguardano la partita, le chiedo se è parlato tanto in questi giorni appunto del possibile recupero di Veretù e Lorenzo Pellegrini, voglio sapere se sono veramente pronti per affrontare anche dal primo minuto alla partita di domani. Sì, Lorenzo e Giordano hanno recuperato, hanno allenato ieri e oggi con la squadra hanno allenato bene e giocheranno domani. Se mi consente anche un visto che manca in campionato da più di un mese, anche se ha giocato 45 minuti a Sofia, mi riferisco a Chris Molling, se anche le sue condizioni ormai sono tornate quelle ottimali. Sì, Chris si è fermato tanto tempo, deve recuperare le miglior condizioni fisiche, è stato importante giocare questi 45 minuti in Sofia per recuperare le condizioni fisiche, per recuperare principalmente fiducia, ma deve in questo momento migliorare le condizioni fisiche per ritornare a fare 90 minuti. Domanda della Gazzetta dello Sport, tra demeriti vostri e situazioni poco favorevoli, nelle ultime partite avete fatto un punto senza segnare. La partita di domani è per questo ancora più importante per non perdere terreno da chi vi sta davanti? Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo sempre giocare tutte le partite per vincere. Non è perché abbiamo pareggiato con Sassuolo che non vogliamo vincere domani. Noi vogliamo vincere una partita che sarà molto difficile contro una squadra forte, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, vincere. Domanda del Corriere della Sera, vista l'assenza di Pedro, ci può essere l'esordio dal primo minuto della coppia, Dzeko e Maiorallo? Vediamo domani. Domanda del Romanista. Giovedì a Sofia il Sesca è stato pericoloso solo per i disimpegni sbagliati dei suoi giocatori. Nello spogliatoio si è arrabbiato o ha fatto valere le attenuanti generiche? Secondo lei quella superficialità non può essere un segnale pericoloso in vista di Bologna? No, sono due partite totalmente diverse. La partita di Sofia abbiamo cambiato molto. L'obiettivo era essere il primo nel gruppo, ero il primo in questa partita. Non mi è piaciuto di perdere come mai. Mi sono soddisfatto quando non vincere, ma sono due partite totalmente diverse. Non ha qui qualche influenza per questa prossima partita. Una partita che, come ho detto, vogliamo vincere. Il Corriere dello Sport le chiede come ha vissuto Paolo Lopez questo periodo in cui è andato in panchina in campionato e se adesso lo vede più pronto rispetto all'inizio della stagione. Paolo ha sempre lavorato bene. Anche dopo ha giocato sempre nell'Europa League, sempre molto bene. Sta lavorando per ritornare a giocare. Domani giocherà Paolo. Il tempo, le chiede Fridkin, le ha chiesto di portare la squadra in Champions o questa è una stagione senza obiettivi, essendo una sorta di anno zero? Il Presidente non ha bisogno di chiedere niente. Io proprio ho parlato dal primo giorno di questa stagione che vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto nell'altra stagione. Abbiamo fatto il quinto, meglio, dentro del primo quarto. Siamo noi che creiamo questa ambizione e sappiamo che vogliamo fare meglio che la nostra stagione. Sappiamo che hanno sette o otto squadre molto forti che vogliono le stesse, ma noi vogliamo luttare per fare meglio che la nostra stagione. Domanda da Lanza. Più volte il mister ha detto che Inter e Juventus sono le favorite di questo campionato. Cosa e quanto manca alla Roma per poter competere a quei livelli? Tempo. Possiamo parlare di molte cose. e penso che sia chiaro per tutti che Inter e Juventus fanno un investimento diverso delle altre squadre. Ma noi vogliamo lavorare per essere più vicini a queste squadre che fanno questo investimento diverso. Dopo abbiamo cambiato la proprietà, abbiamo cambiato la squadra. La squadra è totalmente in questo momento diversa dal primo giorno che io sono arrivato qui. Abbiamo bisogno di tempo per tornare questa squadra più forte e che possa luttare con queste squadre che hanno altro tipo di investimento. Teleradio Stereo le chiede che sensazione ha provato nel vedere le immagini di ieri sera del rigore per fallo di mano e per il rosso assegnato con il VAR. Com'è possibile vedere una totale disparità di giudizio su episodi simili da una settimana all'altra? Voi sapete che non mi piace l'alibi, non voglio cercare l'alibi. Ma io voglio dire quello che ho detto dopo la partita. Gli episodi parlano da soli. Non ho dubbi di questo. Ho oggi la stessa opinione che aveva dopo la partita. Le stesse situazioni sono trattate in modo totalmente diverso. e penso che l'arbitro di ieri non ha sbagliato. Domanda di Rete Sport. Le chiede se ci sarà, se tornerà a disposizione Mancini con il Torino. Vediamo, sta lavorando, sta recuperando bene. Vediamo durante la prossima settimana. Ma io sono fiducioso che Mancini possa recuperare brevemente. Domanda di Centrosuono Sport. Il Bologna è una squadra aggressiva che cerca di recuperare palla alta per ribaltare immediatamente negli ultimi 30 metri. Sta pensando di inserire di nuovo Cristante da primo costruttore di gioco, così da dare più solidità all'uscita palla della Roma? Cristante sta giocando molto bene in questa posizione. Sta diventando un grande difensore centrale per me, con grande qualità nell'inizio della costruzione. Vediamo domani in che posizione giocherà. Una cosa è sicura. Cristante giocherà domani. La posizione vediamo domani. Ma devo dire che sono molto soddisfatto con il disempegno di Cristante nella posizione del difensore centrale. Domanda di Roma TV. Le chiediamo a Mister come sta Dzeko e come ha recuperato e migliorato la sua condizione in queste due ultime settimane. Sta molto meglio. sta recuperando le condizioni fisiche. Si è fermato tanto tempo dopo. Abbiamo avuto bisogno di fare giocare Dzeko senza le condizioni fisiche ideali. Ma adesso sta recuperando. È facile vedere in allenamento che sta molto meglio. Domanda di Roma Radio. Che avversario è il Bologna in questo momento della stagione e che partita si aspetta? Bologna sta facendo una buona stagione. È una squadra molto forte e molto aggressiva. Le uomini attaccanti sono molto bravi e che attaccano velocemente la profondità. È una squadra in cui il momento difensivo è molto pressionante. è sempre alto con una marcazione individuale. Dobbiamo fare una partita perfetta per poter vincere una squadra come Bologna. Come ho detto, sta in un buon momento e è molto forte. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Grazie.